La Procura della Repubblica di Sciacca ha chiesto rinviare giudizio nei confronti dei saccenzi Antonino Gucciardo, 25 anni, e Giuseppe Sabella, di 40. Sono ritenute gli autori delle due aggressioni a scopo di rapina a Sambuca di Sicilia e Menfi, risalente un anno fa, e finite tragicamente nei confronti dei due anziani Nicolò Ragusano e Stefano Mauceri, deceduti dopo le eruzioni dei due nelle loro abitazioni. L'anziano di Sambuca morì qualche giorno dopo i fatti, quella di Menfi lo scorso mese di marzo, dopo otto mesi di agonia. Toccherà all'ufficio del GIP adesso decidere se Gucciardo e Sabella dovranno essere sottoposti ad un processo, vicenda finita lo scorso anno sotto i riflettori, dopo gli episodi violenti che, come detto, costarono la vita dei due anziani. Gucciardo e Sabella furono arrestati dopo rilievi nella casa della menfitana Stefano Mauceri, rilievi che permisero di acquisire numerose impronte digitali dei due arrestati, già noti alle forze dell'ordine e dunque schedati. Arresto che scattò anche sulla base di alcune testimonianze acquisite dai vicini di casa dell'85enne Stefano Mauceri, ma anche di alcuni filmati ripresi dalle telecamere a circuito chiuso situate nella zona che li aveva immortalati proprio qualche giorno prima, probabilmente per un sopralluogo preparatorio per il colpo che avrebbero poi messo a segno. Per i fatti di Sambuca, quelli costati la vita del 93enne Nicolò Ragusano, erano stati fatti anche alcuni accertamente da parte del RIS di Messina. Recentemente, durante un incidente probatorio richiesto dalla procura di Sciacca, Gucciardo ha ammesso di aver preso parte alle rapine insieme a Giuseppe Sabella, attribuendo tuttavia a questi la responsabilità della morte dei due anziani, affermazione con la quale in buona sostanza Gucciardo ha sostenuto che sarebbe stato Sabella ad aggredire Stefano Mauceri e Nicolò Ragusano, dichiarazioni che naturalmente gli inquirenti valutano e tengono in considerazione, anche se al momento la richiesta fatta al GIP contiene per entrambi la contestazione dell'omicidio scopo di rapina. Quasi certamente quella di Gucciardo è stata una confessione che potrà essere utilizzata nel dibattimento in aula, nel caso ci sia il rinvio a giudizio. In estrema sintesi, Gucciardo avrebbe riferito che l'accordo col suo complice era quello di immobilizzare o distrarre gli anziani proprietari delle dimore, non di aggredirli fisicamente. Poi le cose però hanno preso una piega diversa, ma Gucciardo ha chiesto agli inquirenti di essere accusato pure di rapina, non certo di omicidio. L'avvocato Aldo Rossi, che difende Giuseppe Sabella, ha definito poco credibili le dichiarazioni di Gucciardo, ricordando che in un precedente interrogatorio il giovane aveva ammesso di avere detto una bugia. Insomma, la vicenda ha assunto contorni diversi rispetto a quelli originali.